so cosa pensi ma come si fa ad acquistare un profumo online senza conoscere la fraganza te lo spiego io sul mio shop online mineperfumelab.com hai la possibilità di ordinare un set di otto campioni che riceverai comodamente a casa tua e senza alcun costo per la spedizione hai a disposizione quattro set differenti suddivisi in macro famiglia così da semplificarti e aiutarti nella scelta del giusto set da provare una volta ricevuto il set di campioni potrai così provare le otto fraganze contenute al suo interno con calma e scegliere con attenzione e convinzione quella che più ti piace quella che più ti fa sentire bene e non finisce qui la cosa fantastica è che riceverai un buono sconto del 20 per cento che potrai utilizzare sull'acquisto del profumo che avrai scelto ripagandoti così il costo che hai sostenuto per l'acquisto di campioni semplice no il primo set di campioni di cui voglio parlarti è il set fresche e pungenti un percorso olfattivo signorile elegante e che strizza anche un po l'occhio alla parte allegra di questo mondo le otto fraganze custodite in questo set sono accomunate dalla presenza di note fresche agrumate e fumose da gustare in ogni sfumatura il secondo set di campioni si chiama dolci e calde sensuali sofisticate e carezioni ecco le caratteristiche delle fraganze custodite in questo set di campioni le otto fraganze hanno in comune la presenza di note dolci floreali e alcune di queste con accenni sia speziati che mielosi da assaporare in ogni particolarità il terzo set di campioni invece si chiama orientali e legnose quando ho messo insieme e selezionato le fraganze per questo set di campioni ho scelto tutte le fraganze dai sentori ingrandescenti mistici pungenti all'interno troverai composizioni con note orientali balsamiche e affumicate capaci di ammaliare e stuzzicare con un pizzico di spavalderie di sicurezza il quarto ed ultimo set di cui voglio parlarti si chiama i miei ripensamenti la selezione di questo set è caratterizzata da otto fraganze che avevo in un primo momento deciso di non continuare a produrre ma le varie richieste in primis e alcuni aspetti diciamo emotivi a seguire mi hanno indotto a ripensarci ecco appunto il nome attribuito al set le fraganze contenute nel set i miei ripensamenti sono tutte creazioni dai toni molto diretti e senza troppi preamboli difatti per chi vuole spaziare tra le note di questo set si ritroverà a fare un bel giretto olfattivo sipre sedrum wood lovert diproso eternal colonia amber stone sig pepper e infine holla quindi molto diversi l'uno dall'altro ecco quindi i quattro set che voluto mettere insieme le fragranze custodite in tutti i set sono generale quindi perfetto sia per uomini che per donne ti ricordo che in ogni pacchetto profumato troverai un codice sconto del 20 per cento che potrai utilizzare per l'acquisto della fragranza che avrai scelto così da ripagarti gran parte del costo che avrai sostenuto per l'acquisto del set per ordinare i miei set di campioni ti basta entrare nel mio shop online mineperfumelab.com e lì troverai una sezione prova le mie fragranze le spedizioni sono gratuite sempre e un buon profondo